ciao e benvenuto su ghiera un giro attorno al mondo dell'orologeria sono pietro e oggi finalmente vi faccio vedere come in tanti di voi mi hanno chiesto la mia collezione la mia raccolta di orologi variegata impulsiva però con un mio senso nella mia testa che mi sembra un po un po chiusa adesso come come raccolta per lo meno per quest'anno anche se qualche altro colpo prossimamente potrei comunque farlo perché perché siamo ammalati di questa passione però ragazzi prima di addentrarci girare la camera e vedere la mia collezione completa sarà un video ovviamente un po più lungo mi raccomando fate un bel like e iscrivetevi al canale non costa nulla e mi permette di realizzare contenti io davvero non ho abbonamenti non ho nulla solo vi chiedo iscrivetevi al canale costa nulla no e poi ve lo dico già adesso mi raccomando se avete piacere volete vedere anche durante la giornata diciamo così i miei scatti eccetera trovate qui sotto il link dove mi trovate anche sui social instagram facebook tic toc gruppo facebook per le offerte per gli orologi e tutto io ve li metto in sovrappressione però come sempre li trovate anche nella descrizione del video cosa indosso in questo momento non potevo che indossare lo zenith e il primero un orologio meraviglioso col calibro cronografico il primero una meraviglia per gli occhi il mio grey watch che davvero in tutto questo tempo non mi ha assolutamente stancato in questa diciamo così riproposizione di una delle prime referenze lo trovo davvero perfetto ora giriamo la camera e poi vi aspetto qui per salutarci non è che devo dire altro ancora non di soli breguet vive l'uomo e quindi iniziamo dagli orologi entry level rispetto alla mia collezione però a cui tengo tantissimo questo orologio è un citizen al quarzo che era di mio nonno inso io ho messo questo cinturino in pelle l'ho fatto anche revisionare dopo che avevo smontato tutto un orologio davvero dal sapore vintage che per me ha un richiamo speciale nel mio cuore poi un bel secco 5 un bel secco 5 che fa sempre la sua figura guardate l'ho preso semplicemente in mano il magic lever già l'ho fatto partire il design e la sua bellezza l'ho raccontato in un video dedicato mi piace avere in collezione se devo avere un orologio da indossare senza troppi pensieri g shock al momento lo vedete spento ma perché va a energia solare e non era sotto l'energia solare purtroppo però di quegli orologi belli guarda faccio cadere non non ho preoccupazioni tra l'altro c'è un bel ricordo anche di questo orologio perché lo indossavo il giorno in cui è nato mio figlio lo tenevo e misuravo diciamo così le contrazioni di mia moglie lei magari non sono ricorda io sì e ha resistito anche a come mi ha trattato no scherzo però tra l'altro avete visto ho messo anche questa gabbietta che mi piace di più lo rende ancora un po un po più così robusto no che dite bello swatch in collezione non è l'unico poi ne vedremo un altro questo è un vintage è un crono molto carino magari ricorda un po lo spin master che dite io ho messo questo cinturino in gol ma che però non ci sta benissimo dovrei cambiarlo però lo metto così poco che devo dirvi la verità mi ci preoccupo anche davvero poco nel nel starci dietro ecco andiamo avanti un po rapidamente jumping hour questo visconte rosso che ho messo con questo cinturino rosso secondo me molto molto carino artigianale è un orologio dalla poca spesa e tanta e tanta resa perché è un orologio un po diverso dai soliti particolare a me piacciono anche queste tipologie di orologi se mi seguite da tempo ormai lo sapete sembra quasi un è diciamo a tutti gli effetti un antisignano di quelli che sono gli orologi digitali di oggi qua vediamo alcuni definiscono anche bilancia però piace di più vederli come degli orologi digitali dove non c'è la precisione massima ma c'è comunque un modo diverso di mostrare l'ora rispetto alle classiche tre sfere andiamo avanti bulova vintage questo era dell'altro mio nonno mio nonno pietro come vedete i segni del tempo sono evidenti però è stato fatto revisionare quindi è un orologio che adesso sta sta molto bene è un orologio che probabilmente mio nonno acquistato in australia quando era in prigione a tutti gli effetti durante la seconda guerra mondiale quindi un orologio per me davvero meraviglioso restiamo nel vintage e andiamo su questo invece polpico polpico l'evre questo orologio mi è stato regalato da mio padre che ancora in vita quindi ciao papà e quando mi sono iniziato ad appassionare gli orologi iniziato a parlare di orologi destra e manca mi ha voluto regalare questo orologio che sua sua moglie quindi mia madre gli aveva regalato quando si sono sposati quindi a un duplice valore tra l'altro io che mi chiamo pietro pannone e lui che si chiama pasquale pannone condividiamo anche la doppia p però mio figlio si chiama tommaso quindi questo lui purtroppo questo ulteriore legame non se lo piglia restiamo nel vintage e andiamo in casa seco questo orologio ci tengo tantissimo è un orologio che secondo me dovrebbero avere tutti in collezione un seco 61 39 7002 col calibro cronografico che è il primo calibro cronografico al mondo un orologio davvero molto bello gli ho cambiato il bracciale gli ho messo questo cinturino in pelle che secondo me stile racing gli sta davvero molto bene richiama il giallo della sfera degli dei minuti a me piace molto che dite restando nel vintage uno dei miei ultimi acquisti nell'anno mas de cartier un cartier tank un orologio che vi mostra anche come si è appassionato di orologi dal diametro molto piccolo questa è un'eleganza davvero davvero unica un orologio molto 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 bello con questo nero cassa argento calibro manuale davvero molto bello poi restando nel diciamo così vintage contemporaneo yema superman un orologio che mi è stato regalato da da yema tengo in collezione perché mi piace aver parecchio peculiarità vediamo che la corona blocca il fermo ghiera che comunque è a scatti quindi è una soluzione diciamo così estetica per richiamare quando invece il fermo serviva a bloccare il le ghiere libere sostanzialmente un orologio anche questo molto bello bella ma la sfera dei secondi così con la paletta un orologio che mi piace mi piace vero tanto altro amico brand venezianico super leggero il primo orologio lanciato dalla ex meccaniche veneziane che ho potuto recensire vedete uno scheletrato che rappresenta il nuovo corso dell'azienda ancora vintage e qui nevada granschen un orologio il cronomasse a vieto si diver in particolare questa è la versione lollipop come potete vedere dalla sfera dei secondi con il contatore il contrasto quindi un reverse panda è davvero molto bello il nuovo corso di mi vada mi piace parecchio qui abbiamo un sellit sv 510 quindi un calibro a carica manuale che lo rende leggermente più sottile rispetto ad un crono invece automatico un altro sapore di vintage direi questo glissine e una gmt un orologio che non ha mai recensito ce ne sono tantissimi tantissime di recensioni su sui glissine laissine chiamateli come volete anche qui abbiamo una corona che blocca come vedete quello che l'inserto che però in questo caso è libero quindi ha un suo senso senso che ci aiuta ad avere un terzo fuso orario perché questo è un gmt l'avevate notato gmt che in questo caso può essere triplice perché posso utilizzare la ghiera per vedere un altro fuso orario ma la sfera che adesso è a ore 3 è una sfera gmt questo è un secondo me anche uno dei problemi di questo orologio perché rende si confonde molto invece con la sfera dei minuti ve lo assicuro nell'utilizzo normale questa cosa succede però questo orologio è un altro dei master della mia collezione che non toglierò mai regalatemi da mia moglie quando è nato mio figlio quindi di giorno c'avevo il g shock e la notte c'evo questo data bene è sempre bello fare queste cose perché ti rendi conto un po della tua collezione qua abbiamo un altro sapore di vintage rado golden horse un orologio molto bello da diametro contenuto bracciale chicchi di riso powermatic 80 andiamo a vedere anche il fondello verde un'edizione limitata a 1950 e rotti pezzi con i cavallucci marini ore 6 un orologio davvero bello un'altra peculiarità l'ancora che vediamo sopra la scritta rado si muove c'è un rubino nel calibro che che la muove quindi non è che si muove come un rotore di carica però si muove ogni tanto da una cosa che che mi piace e mi affascina l'altra parte particolarità vediamo se la mette a fuoco ok è il datario rosso anche questo molto bello prendiamo questo che potrebbe essere un po una transizione tra il vintage e il moderno questo oris point data altra edizione limitata di crown molto molto bello un orologio che mi piace sempre secondo me forse l'orologio simbolo di di oris questa colorazione verde tra l'altro la trovo bellissima sfere cattedrali la sfera scusate delle ore cattedrale davvero bella la siringa invece quella dei minuti un orologio di un fascino di una bellezza incredibili no che dite cinturini in pelle di ottima fattura bello 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 e per chi non lo sapesse la peculiarità qui è che la data invece che deve essere mostrata con una finestrella a una quarta sfera che è questa dove c'è il puntatore rosso che ci mostra la data infatti vediamo fino al 31 quindi dall'uno è così che si legge la data che giorno è christopher world super compresso doppia corona cassa compresso vera vero super compressor così come realizzato dal buon pierpaolo cassoni con il suo icnos questo è un è stata scelta un fondello aperto che possiamo vedere il calibro utilizzato sellita sv200 però la cassa è una vera cassa super compressor è una peculiarità di questa referenza che ho comprato in mega sconto su come si dice su sul sito di christopher world la faccio vedere un attimo eccolo qua vedete la scritta super compressor non è centrata e va beh non è che diventerà un rolex gmt serie limitatissima però insomma è una che una chicca che che me lo fa a tenere volentieri in collezione altro seco questo è il prospects save the ocean glacier 1965 un orologio con un quadrante secondo me bellissimo ogni volta che la indosso mi piace sempre sempre da matti la referenza è la spb 29 7g 1 e il calibro è un 6r 35 un orologio davvero molto ben fatto devo dire la verità potrebbe essere davvero uno dei migliori diver sui sui mille euro se poi è stato diciamo così regolato bene per quanto riguarda la marcia è davvero perfetto restando sul mondo diver al contrario perdonatemi titanio un bel titanio non mancherà la mia collezione questo citizen è davvero molto 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 bello mi piace molto questo verde in particolare lo trovo molto particolare poi ci sta avere dei citizen in collezione soprattutto per quanto riguarda i diver questo è un calibro della serie 8 di miota però gli hanno messo almeno fermo macchina che come dire a qualcuno soprattutto per quando si tratta di fare il diving è una cosa ben voluta avete visto tac molto molto bello luminosità ottima davvero un bello orologio soprattutto rispetto al prezzo da 300 e qualcosa io facciamo l'orologio dello scherzo lo il muse watch l'ho già detto ne ho parlato fin troppo o il martedì sono contento di avercelo perché mi ha parlato molto qui sul canale e ha rappresentato anche un punto di crescita per il mio canale ce l'hai carino mi piace questa versione che che anche dei richiami di di omega più più diciamo così doppi non solo legati allo speed master e quindi mi piace non lo vediamo dalle dalle sfere cronografiche molto molto bello cioè molto bello carino poi plasticaccia non compratelo bla 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 soprattutto non vale la appena spenderci più dei 250 euro che costa squale 15 21 cassa brunita diciamo così opaca è un altro diver dal mia collezione sempre sempre bello guardate anche la facilità nel girare la ghiera una mano sola questo fatto per chi deve fare immersioni è davvero perfetto infatti vediamo anche la sfera arancione dei minuti per tenere i tempi di immersione questo è il cinturino in gomma squale che che ho davvero un bello orologio molto 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 carino ball engineer orologio col calibro sv200 questo questo orologio ha la peculiarità di avere questa doppia r come contrapeso della sfera i secondi rossa che lo rende davvero una meraviglia vedete anche qui lo faccio vedere un orologio che ho da ormai diverso tempo e che ogni tanto mi viene in mente di vendere poi non lo vedo anche bello il fondello bolle legata a doppio filo con il mondo delle dei treni di americani perché è stata per anni la l'azienda che dava i orologi ai controllori eccetera in modo tale da avere la possibilità di misurare i tempi eccetera quando la tecnologia non c'era non solo è riuscita a creare sempre orologi con una forza a campi magnetici al freddo e all'estremo caldo e quant'altro proprio per cercare di garantire precisione di marcia in qualsiasi contesto insomma bello orologio davvero bello l'ultimo tubi di trizio quindi luminosità spaventosa sempre comunque anche se non si prende la luce due orologi completamente diversi orologi calamai micro brand italiano che produce orologi sostanzialmente per pilot quindi avviatori eccetera mi è stato regalato direttamente a francesco questo orologio quindi lo conservo in davvero in modo prezioso questo è la mk3 davvero molto molto bello azzeccato con cinturino in pelle di fiore il primo fiore bellissimo qui atowak cobra un orologio invece completamente fuori di testa un omaggio se volete a your work però con una propria chiave di lettura l'orologio che penso è stato meno apprezzato sul mio canale ma quando ce l'ho ciga design e memphis bell predator spirit orologi dalla cassa importante questo davvero un orologio militare bello bello tosto qui abbiamo invece un orologio che piaccia non piaccia ma ha vinto il grand prix orologieri di geneva del 2021 bello bello orologio di cui ho fatto la video recensione passiamo diciamo alla ai miei preferiti cioè nei preferiti di maggior valore eccetera il mio ultimo acquisto dell'anno tudor black bay 58 calibro di manufattura che nissi mt 5402 come potete leggere anche dal dal quadrante è una cosca quindi mi piace quando ogni tanto devo confrontarmi magari con mia moglie che mi chiede qualcosa e cos'è un orologio molto preciso vi piace come definizione un orologio che mi piace molto sono contento di averlo messo in collezione il mio gran seco l'avete visto l'avete visto rovinato l'avete visto rinato dopo la revisione che è stata fatta da casa madre è un orologio meraviglioso in particolare questa è la versione sb ga 283 39 millimetri di diametro riserva di carica calibro spring drive pensate il calibro che qui è il calibro che era entry level per quanto riguarda gli spring drive di gran seco è il 9r 65 con una precisione di marcia che vada più o meno un secondo al giorno più o meno 15 secondi al mese con 72 ore di riserva di carica è un orologio meraviglioso davvero davvero tanto vediamo subito un po di carica come inizia a marciare come la riserva di carica inizia a fare il suo dovere davvero un orologio bellissimo purtroppo non più a catalogo gran seco adesso per avere uno spring drive ma se un gran seco bisogna spendere purtroppo parecchio di più brightling cronomat col bracciale ruolo bracciale cartucera preferisco dire sto facendo delle scoperte non troppo piacevoli su questo orologio purtroppo credo che abbiano fatto un po di pasticci nel tempo pasticci cosa vuol dire vuol dire che la sfera secondo me sfera dei secondi probabilmente anche il quadrante non sono sono originali ma sono stati messi dopo forse anche il bracciale non è giusto insomma c'è un po un miscuglio qui però a me piace il risultato finale devo dirlo non è un pezzo non è un rolex da 20 mila euro dove un dettaglio come questo fa davvero la differenza quindi mi va bene così devo fargli la revisione però quello si longe in flagship un orologio molto bello un dress watch da 38.5 mm un orologio col calibro l615 che su base età 28 95 2 un orologio secondo me è molto bello guardate anche come sottile elegante ci sta ci sta davvero in collezione cinturino in pelle ovviamente bello cartier santos cartier santos galbè 29 60 dovrebbe essere come come un periodo tra gli anni 80 e l'ottanta tra gli 80 tra 1980 1989 il calibro è un automatico ita 26 71 però guardate qua anche qui mitigato un po da questo da questo fondello come come diventa sottile anche questo c'è bisogno di revisione lucidatura quindi il 2023 dovrò pagare per fare un po di questi lavoretti ma ci sta calibro di manufattura frederico stan ore del mondo un orologio molto molto bello che è in collezione con questo cinturino molto scomodo tra l'altro bisogna dirlo perché la la chiusura è davvero un po un po fastidioso però un orologio di una bellezza unica e ti permette di vedere in un colpo solo quello che è l'orario in giro per il mondo quindi non un solo secondo fuso orario come su un gmt ma l'ora in tutte le città che potete vedere nella parte più esterna del quadrante un orologio meraviglioso moon watch professional professional chronograph eccolo qua calibro 18 61 vetro esalite questo qua tra l'altro ha una confezione che dir poco stupenda devo dirvi la verità molto 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 bella primo orologio indossato da un uomo sulla luna e nulla davvero bellissimo nulla a che vedere con non suor che vi ho fatto vedere prima però questo davvero un signor segnatempo jeje le cutre jeje le cutre poi mi dicono no se c'è jeje le cutre io so so jeje le cutre quindi vado di jeje le cutre reverso tac ma che bellezza calibro manuale 8822 che ho fatto revisionare da da pochissimo è davvero tornato nuovo la referenza è la 2708 62 e il jeje le cutre reverso grand time avere un orologio molto molto bello elegante perfetto il mio crono tag autavia bel cinturino in pelle bello spesso calibro di manifattura oyer 02 il calibro cronografico di manifattura indosso un altro adesso come avete visto inizio del video un bel orologio importante cioè un orologio che ha una presenza sul polso davvero notevole quindi deve piacere ghera bidirezionale che serve a contare i giri e non a prendere chissà che che tempi no perché è un orologio realizzato proprio avendo in testa il mondo delle corse rolex air king a referenza 14000 quando gli air king erano davvero una cosa molto diversa rispetto a quelli che sono oggi no non trovate un orologio vintage che sta bene vabbè bracciale andrebbe un po' risistemato però marcia da dio mi piace molto lo trovo molto equilibrato 34 mm ma che vestono davvero in modo corretto e abbiamo in questo caso il calibro rolex 3000 che non è un calibro certificato da la casa rolex è stato certificato mi sembra nella versione successiva però sto andando a memoria quindi nel caso correggetemi pure che non mi offendo eccoci spero che la video collezione la video sì la video collezione la mia video collezione vi sia piaciuta ditemi che cosa aggiungereste togliereste eccetera mi fa mi fa sempre piacere tenendo conto che comunque ci sono dei motivi per cui vedete gli orologi e non ne vedete degli altri io vi ricordo il canale dove entrare in contatto con facebook instagram telegram gruppo facebook dedicata alle offerte per gli orologi e tik tok se vi è piaciuto questo video fate un bel like e iscrivetevi al canale in fondo vi lascio qualche altro video così tanto per farvi un'altra bella scorpacciata di orologi ciao ragazzi alla prossima ciao ciao ciao